Questa mattina alle ore 11 nella sede camerale di via Roma a Sassari è stato illustrato nel corso di un incontro con la stampa il risultato dell'osservazione e indagine sulle dinamiche territoriali contenute nel focus 2021 analisi socio-economica territoriale realizzata dall'ufficio studi della camera di commercio di Sassari di particolare interesse l'approfondimento relativo agli effetti della pandemia che hanno riguardato il nord Sardegna in quest'ultimo anno e mezzo. In questa seconda edizione del focus 2021 sono state valutate tra le altre le reazioni dell'intero tessuto economico locale alle misure adottate per il contenimento della pandemia. In linea con l'edizione precedente il focus definisce un'indagine conoscitiva circa l'analisi degli effetti sul sistema imprenditoriale di periodi alternati di chiusura e apertura di numerose attività ritenute non essenziali confrontando le diverse risposte dell'economia locale rispetto ad altri territori regionali e nazionali e rispetto alle imprese. Sul fronte dell'import-export la reazione dell'interscambio commerciale per quantificare l'atteso rimbalzo tecnico degli acquisti e delle vendite nei mercati esteri determinato dall'allentamento delle limitazioni dei movimenti verso altre nazioni. Nella sezione dedicata al turismo l'azione è stata quella di inquadrare il nuovo movimento turistico regionale dopo un 2020 in lockdown attraverso i flussi di arrivi e partenze nei porti e aeroporti della Sardegna. Sotto il profilo occupazionale l'analisi ha riservato particolare attenzione alle assunzioni con confronti territoriali e temporali. Per quanto riguarda le imprese le realtà camerali della Sardegna fanno registrare una variazione demografica di imprese nettamente positiva con il nord Sardegna che supera la crescita del 2% dal 1 gennaio al 30 settembre 2021. Per le esportazioni del nord Sardegna nel periodo gennaio settembre 2021 si rianimano risalendo a 140 milioni di euro il dato è leggermente inferiore a quello del 2019 ma nettamente superiore a quello dell'ultimo anno. Sono inoltre circa 7,9 milioni i passeggeri che sono transitati nei porti aeroporti sardi tra gennaio e settembre 2021. I dati rilasciati dalla regione Sardegna seppur ancora provvisori mostrano un'aspettata crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 ma rimangono ancora molto distanti da quanto registrato nel 2019. Per quanto riguarda le assunzioni del primo trimestre del 2021 sono state tra le meno numerose degli ultimi anni. L'influenza della terza ondata del covid ha frenato le nuove attivazioni riducendo il numero dei contratti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 15% se confrontato con il 2019 e le prime prenotazioni nelle strutture ricettive hanno favorito il mercato del lavoro facendo registrare nel periodo da giugno a settembre oltre 130 mila assunzioni quota non raggiunta nei due anni precedenti. La ripresa ed espansione nel 2021 rispetto al 2020 ha caratterizzato tutti i territori amministrativi regionali un rimbalzo che però non ha consentito a nessuna provincia di colmare il crollo di assunzioni perse durante il 2020. Il maggior numero di nuovi contratti si contano nel nord dell'isola territorio che cresce di circa 20 punti percentuali rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente grazie alla forte ripresa delle attività legate al periodo estivo. Il saldo è attivo tra le imprese che cessano l'attività e quelle che invece la iniziano, un 1,36% che colloca la Sardegna tra le regioni virtuose al quarto posto in Italia, meglio ancora la provincia di Sassari, il nord Sardegna che segna un più 2,19 ed è addirittura la terza provincia d'Italia per crescita di saldo. male il comparto industriale, meglio il comparto turistico, il comparto delle esportazioni che torna ai valori addirittura pre-crisi, un altro segno meno invece per il commercio di prossimità dove evidentemente è facile intuire le motivazioni.